Gentili amici da casa, ancora una volta Canale 2 c'è e si vede, perché siamo qui anche oggi a condurre questa trasmissione su Canale 2 TV, tra l'altro, lo ricordiamo, queste trasmissioni vanno in replica regolarmente anche su Canale 2 Extra la settimana successiva e poi vanno in onda, Dulcis in fundo anche su Canale 2 Radio il giorno successivo, quindi è una trasmissione che potete ascoltare e vedere come e quando volete, se lo volete, se lo vorrete. Allora, ben ritrovati a tutti, abbiamo avuto fino a qualche giorno fa uno spot e una campagna pubblicitaria che ci faceva anche da sponsor che riguardava la raccolta differenziata, come è andata a finire questa vicenda della raccolta differenziata lo scopriremo solo vivendo, vi daremo dati più precisi nelle prossime ore e capiremo se saremo costretti noi altamurani a pagare qualcosa in più proprio per l'applicazione di questa fantomatica tassa che è l'ecotassa stabilita dalla regione. Per oggi invece parliamo di altri argomenti e lo facciamo insieme ad un ex consigliere comunale di Altamura che tutti quanti voi ricorderete, senz'altro lo avrete visto in chissà quanti consigli comunali parlare, dire la sua e sporre, si tratta di Enzo Colonna, esponente di ABC che salutiamo per essere qui. Bene trovato, grazie per l'ospitalità. Allora, Enzo Colonna ormai fa un lavoro dietro le quinte rispetto a questo movimento, il movimento Altamura Bene Comune che ha anche i suoi consiglieri comunali. Sì, c'è una consigliera comunale, Rosa Melodia e poi c'è un gruppo bello articolato, siamo molto presenti, siamo sempre in trincea. Ecco, la vita senza il consiglio comunale com'è? La vita privata? Ma posso dire, dovresti parlare più con lì. Sospiro di sollievo, no? No, a livello personale è venuto meno giusto quello strumento che è molto importante, molto efficace di comunicazione diretta con i cittadini Altamura, soprattutto grazie alle riprese di Canale 2. Questo è un dato in dubbio. Secondo dato, sul piano strettamente personale, per quello che può interessare, mi duole ed è un po' frustrante non poter essere parte attivo di una discussione, nella sede consigliare, perché poi ci sono tanti ambiti di discussione, c'è la rete, facebook molto, su cui sono molto attivo attraverso il mio profilo. Però quello che mi duole è purtroppo che in molte circostanze sento evocare il mio nome come una sorta di spauracchio da parte sia del primo cittadino e di qualche consigliere di maggioranza che ogni tanto evoca impropriamente nel mio nome, perché essendo parte del Consiglio Comunale non sono messo in condizione di replicare adeguatamente anche il Consiglio Comunale, come dovrebbe essere. Lo stile non appartiene a tutti. Noi, siccome operiamo in questo modo, diamo la possibilità ovviamente a tutti di rispondere sui vari temi, così come il Sindaco ha potuto esprimere la sua su questa vicenda anche qui in trasmissione, è giusto che Enzio Colonna possa rispondere a queste, chiamiamole accuse, non lo so come chiamare questa considerazione. No, ma è giusto che il cittadino si forme una sua posizione, una sua opinione, non ci sono atti di fede nei confronti di tizio o di cari, deve formare la sua opinione grazie a un bagaglio informativo, informazione, che noi siamo tenuti, perché io penso che il primo dovere di chi svolge politica e chi ha un ruolo istituzionale sia quello di spiegare, far capire alle persone in modo tale che poi ciascuno possa fornire tutti gli elementi, senza nascondere nulla, insomma. Quindi nei momenti di contrasto, di contraddittorio, vengono fuori informazioni che ascoltano o l'uno o l'altro i cittadini non paventano. Ad esempio sulla storia di Riccidia, tu parti e sei partito puntualmente e siete stati impegnati in questa campagna informativa di sollecitazione e mobilitazione alla città, la raccolta differenziata, una campagna sacrosanta, diciamo soprattutto, assolutamente sacrosanta. Però il problema è quello che è mancato da parte del sindaco dell'istituzione comunale e far capire anche come purtroppo, e questo è il mio ramarico, purtroppo questa campagna si è partita troppo tardi. Certo, sono stati due anni di muoto. Queste campagne di disensibilizzazione devono essere l'ordinaria amministrazione. Mi sono sembrati, sì, c'è stata questa chiamata alle armi, mi raccomando, dobbiamo raggiungere a giugno certi obiettivi di raccolta differenziale. Ma non sono state spiegate due cose essenzialmente. Uno, che non si tratta di una legge eccezionale che è venuta fuori quest'anno, è una legge che si ripropone ogni anno, viene aggiornata ogni anno e che, secondo dato, il Comune di Altamura risulta essere già inadempiente al dato l'anno scorso, molto sinteticamente. C'è stata una legge del gennaio 2016 della Regione Puglia, di qualche mese fa, la numero 1 2016, che ha sostanzialmente rimesso nei termini i Comuni inadempienti. Perché noi dobbiamo cercare di coprire il gap dell'anno scorso, 2015, dicendo che nel mese di giugno bisogna raggiungere una raccolta differenziata che consente di superare di 9 punti percentuali. Il dato della raccolta differenziata dell'anno tra settembre 2013 e agosto 2004. Dobbiamo fare 9% in più. In quell'anno Altamura raggiunse, se non sbaglio, circa il 18-19%. Quindi, per poter evitare l'aumento dell'ecotassa da 15 euro ai 25-26 euro a tonnellata di rifiuti smaltiti in discarica, a giugno, per non pagare questo aumento di 10 euro e più, per i dati dell'anno scorso, 2015, avremmo dovuto raggiungere nel giugno 2016 9 punti in più, cioè il 27% di raccolta differenziata. Non lo so se ce l'abbiamo fatta. Poi c'è il secondo dato differenziata 2016, anche per quest'anno, come per tutti gli altri anni, quest'anno per giugno avremmo dovuto raggiungere il 5% in più rispetto al dato di 9. Quindi o dobbiamo raggiungere il 24% o il 27-28% per poter evitare o di pagare l'aumento sia per il 2015 che per il 2016 o almeno per risparmiarci quello per il 2016. Parliamo di circa 225-250 mila euro ad anno questo supplemento di ecotassa, cioè che è una sorta di meccanismo che premia i comuni che fanno differenziata. E siccome di raccolta differenziata, anche qui Arturo, ne abbiamo parlato decine di volte, è un dato strutturale, perché ormai Altamune si è attestata ormai da anni su quote del 17-18%. Che non si riescono a sboccare. E non puoi superarle con una campagna puntuale, efficace, come pure quella che è stata fatta anche attraverso la televisione nell'ultimo mese. Mi sembrano quegli studenti che non hanno affidato... Ma non provarci sarebbe stato peggio. Assolutamente. Non provarci sarebbe stato peggio. Anche perché aggiungo che la legge stessa imponeva di abbinare sia l'aumento della raccolta differenziata con quelle che chiamano le best practice in materia di rifiuti, cioè le migliori pratiche nel campo ambientale, tipo distributore di acqua, cosiddetta l'acqua dei sindistributori di acqua per risparmiare la plastica, oppure acquisti verdi, oppure campagne di sensibilizzazione rivolte alle scuole o alla cittadinanza, oppure il compostaggio domestico. La legge indicava una serie di misure che dovevano essere adottate per poter beneficiare di quello sconto. Ma ripeto, qui non siamo dinanzi a nulla di sorprendente, è un dato strutturale. Una legge che c'è nella vita, una legge che penalizza i comuni che non fanno la raccolta differenziata, Altamura che ferma al 17-18% da anni, una differenza che non è mai decollata sostanzialmente. E ora siamo in attesa, spero, di una rapida soluzione con l'esito della... Perché se poi ci dimenticheremo di questa cosa, a partire da oggi, allora non avremo fatto assolutamente nulla. Ma sembra come quegli studenti che non hanno studiato per l'intero anno, o all'università per l'intero semestre, arrabbattano una preparazione l'ultima settimana per fare l'esame. Insomma, tutti i limiti sono evidenti, perché non resta nulla di strutturale e soprattutto molto spesso non si raggiunge bene i risultati di conseguire il 18% insomma. Anche perché il risultato che si sarà ottenuto ha contribuito negativamente per il risultato che si sarà ottenuto, non sappiamo qual è di preciso, ma in questi anni ha contribuito negativamente la mancanza di consegna, per esempio, delle buste, la cattiva condizione dei cassonetti. Una campagna informativa che è toccata per una certa... Ci sono stati tanti fattori che giocano negativamente rispetto a questa azione. Negativamente, ma ripeto, collocano le responsabilità in termini di controllo di presidio nell'istituzione comunale. Quindi io mi auguro davvero che si sia riusciti a raggiungere il risultato a giugno, però davvero non possiamo che piangere le inerzie, le omissioni di tutti questi anni. Non si è mosso un dito e cambiamo. Speriamo ora che ci sia davvero un cambio di passo. Io ho scritto qualche giorno fa in un post sul mio profilo Facebook, speriamo che si arrivi alla fine di un'epoca, vale a dire con l'aggiudicazione dei definitivi, soprattutto con l'assipo del contratto, con i nuovi operatori e le nuove società selezionate con la gara gestita dalla Consip. Perché dei giorni scorsi la Consip, che è questa società del ministro del tesoro che assiste i comuni e le pubbliche amministrazioni a rispettamente le gare d'appalto, come in questo caso la Consip ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria, a luglio, entro luglio all'aggiudicazione definitiva e poi entro settembre ha comunicato, stipulerà il contratto, un contratto che garantirà, destinato a garantire il servizio sia raccolta rifiuti che spazzamento, igiene urbana e servizi connessi per tutti i sette comuni dell'ambito di raccolta ottimale, quindi Altamura, Gavine, Santerno, Cassano e così via, e per sette anni, un appalto di 120-130 milioni di euro complessivamente, quindi mi auguro davvero sia la fine di un'epoca e che non ci si inventi magari qualche altra soluzione che prolunghi questa agonia, perché non possiamo andare avanti con un sistema che era quello concepito più di vent'anni fa, con un appalto che era scaduto ricorderà nel febbraio 2012, con un sostanziale prolungarsi di quel servizio di anno in anno e che si arriva davvero a mettere in condizioni il comune di passare ad un sistema di raccolta differenziata sfida, che consente ai cittadini non solo di ridurre i rifiuti e quindi ridurre l'impatto ambientale, ma soprattutto anche di alleggerire la tassa sui rifiuti, che è aumentata progressivamente di in anno in anno, compreso quest'anno, nonostante i programmi dell'attuale Primo Cittadini, è aumentata sia per il 2015 con una scelta di amministrazione forte ed aumentata anche quest'anno, 2016, per le attività commerciali, sicuramente tutte le attività commerciali, ma anche per le utenze domestiche e residenziali quando i componenti nucleo fabbiliari sono a meno da 3 in poi e con aumenti del 6-7% e per le attività commerciali molto di più. Speriamo che anche nel futuro si possa fare della pubblicità e informazione per i cittadini perché questa storia della raccolta differenziata è un impegno serio che va assistito, va garantito. Allora, veniamo invece a un altro argomento per cui lei è stato chiamato in causa dal sindaco, perché siamo qui davanti a tutti, sembrare troppo amici non mi sembra il caso, è un fatto proprio così, di forma. Allora, dicevo Enzo Colonna, il sindaco l'ha tirata in ballo per la questione dell'acquisizione della cava dei dinosauri, perché sembra che ci fosse una delibera, un orientamento dell'amministrazione già a 575 mila Euro, credo, una cifra del genere, 535, determina delibera sulla quale ci sono stati espressi i voti favorevoli di tutti i consiglieri comunali, tra cui c'era anche lei. su questa vicenda e cosa ha dato? Allora, intanto precisiamo il mio ruolo, come il ruolo di tanti attualmente all'opposizione, è stato sempre un ruolo di minoranza, di chi non ha mai potuto determinare, mettere in esecuzione le proprie idee e le proprie proposte anche in termini amministrativi. Siamo stati 10 anni all'opposizione di Stacca, dopo 10 anni quasi, era pochi mesi dalla chiusura del mandato di Stacca, il sindaco Stacca si desta dal suo torpore e decide di portare in consiglio questa soluzione. Qual era la proposta che venne in consiglio Cunan nel luglio 2014? Era una proposta sostanzialmente che attivava un procedimento di esproprio affidandolo però al ministero. Cioè vale a dire c'è un procedimento di esproprio che è regolato dal codice di bene culturale che vede appunto il ministero soggetto espropriante. Cioè per esigenze di pubblicità, per la valorizzazione dei siti, dei beni culturali e archeologici, il ministero può espropriare. Ebbene nel luglio 2014 con una proposta che portò in consiglio Stacca sostanzialmente il consiglio comunale, poi con un voto all'unanimità in quel caso, è stato uno dei pochissimi episodi, il consiglio comunale e quindi il comune non faceva altro che chiedere al ministero, attivando una procedura, l'articolo 95 del codice di bene culturale, chiedeva al ministero di avviare l'esproprio. Con la precisazione appunto che si trattava in questo caso di una procedura che era tutta ministeriale. E in questo caso si diceva al ministero procedi con l'esproprio, ti chiediamo di procedere con l'esproprio e in più si diceva al ministero avrai cura di, sto leggendo la delibera del consiglio comunale del luglio 2014, avrebbe avuto cura il ministero di garantire anche l'accessibilità dalla Stata Puglia, quindi avrà cura anche problemi legati all'accesso che è un problema serio in quel contesto, tra l'altro c'è una situazione legata a passaggi livello chiuso che verrà chiuso da qui a breve e così via. Però questa richiesta al ministero veniva accompagnata da una disponibilità finanziaria, poiché c'erano stati appunto contatti tra l'amministrazione e Stacca, non io certamente, non l'opposizione all'epoca e la sovrintendenza, la sovrintendenza aveva detto perché il ministero possa decidere di procedere con l'esproprio ha necessità di avere la disponibilità di somme da parte del Comune e la sovrintendenza stimò questa provvista finanziaria in 535 mila Euro. Quindi qual è il passaggio decisivo? Siamo dinanzi a una procedura tutta ministeriale e in cui ci si chiedeva semplicemente di mettere a disposizione una somma che non è quella che doveva essere riconosciuta come un indennizio, era un impegno in bilancio, cioè abbiamo una provvista a disposizione del ministero, tant'è che si precisava nella delibera, le spese eccedenti di questa somma resteranno a carico del ministero, cioè non andiamo a oltre 535 mila Euro, però si diceva altrettanto, eventuali risparmi di spesa saranno ritenute economie per l'ente comunale, cioè il limite è 535, se ne spenderai 100 i 435 resteranno a Comune, se ne spenderai 700, il di più lo metterai tu come ministero. Questa vicenda qui si è consumata nel luglio 2014 e si è consumata nel momento in cui, tra l'altro, aggiungo come il dovere dell'opposizione qual è, noi in Consiglio Comunale proponemmo una strada alternativa a questa, noi in Consiglio Comunale presentiamo un emendamento che la maggioranza dell'epoca ci bocciò, in cui dicevamo sostanzialmente perché dobbiamo affidare al ministero l'esproprio con la somma che ci è stata indicata dalla sovrintendenza, sebbene come tetto massimo di spesa, insomma, perché non prendiamo noi in mano la procedura d'esproprio, la facciamo nostra come Comune e chiediamo solo al ministero di essere autorizzati, perché questo avrebbe portato in capo al Comune tutta la procedura e quindi il Comune avrebbe dovuto procedere alla stima fatta dal Comune, alla elaborazione di un progetto e così via. La maggioranza ce la bocciò e alla fine, pur di procedere, diciamo, abbiamo dato un voto positivo a questo esito, che affidava al ministero la procedura, sollecitava il ministero a procedere con questa procedura e metteva, impegnava in bilancio, cioè garantiva in bilancio una disponibilità che non era la somma dell'esproprio, perché chiedono al ministero di procedere, non significa che il ministero il giorno dopo fa il decreto dell'esproprio e ti spendi 535 mila euro. Il ministero avrebbe dovuto fare quello che aveva detto i sovrintendenti, dice guardate il ministero dopo aver avuto questa richiesta procederà alla redazione di un progetto, avvierà la procedura di esproprio, fisserà la stima del bene e quindi dirà poi qual è la stima del bene e quindi la somma concretamente necessaria per l'esproprio e quattro farà poi alla fine il decreto ed esproprio. Questi quattro passaggi si sarebbero dovuti consumare dopo questa delibera, ma nulla del genere è avvenuto. E aggiungo un ultimo dato, l'impegno di spesa, cioè quel vincolo in bilancio, dice il ministero noi abbiamo 535 per tutte queste esigenze, il progetto per eliminare, l'avvio della procedura di esproprio, la notifica e poi l'indennizzo concretamente riconosciuto dal ministero. Ma dicevamo in questa delibera, e questa fu una cosa puntualmente definita e votata in consiglio, perché fu un emendamento del consiglio, si diceva anche che questo vincolo in bilancio, la disponibilità, il testo a me, la disponibilità della somma a favore del ministero avrà validità di 6 mesi, decorrenti dalle notifiche del lato stesso al ministero. Cioè vale a dire, se il ministero non avesse compiuto tutti quei quattro passi, il progetto, l'avvio del proprio procedimento di esproprio, la stima del bene e poi il decreto di esproprio, nei 6 mesi, tutto questo impegno in bilancio, la disponibilità della somma sarebbe avvenuta meno, cioè la somma sarebbe stata svincolata e quindi destinata per altri usi da parte del comune. Infatti i 6 mesi sono decorsi, senza che sia avvenuto nulla del genere, e questa delibera è diventata quindi carta straccia. Quindi che il sindaco stia ora a richiamare questo dato storico, lo trovo un'operazione di una cortina fumogia, una mistificazione, tanto per confondere le acque, perché quali sono i termini della questione ora, l'attualità, e che su cui siamo impegnati da mesi, siamo stati impegnati da mesi, ora il comune ha ritenuto comunque di chiudere tutta la procedura, perché comunque partiamo anche qui da un altro dato di fatto. Noi stiamo parlando oggi, nel momento in cui il contratto di vendita tra la società Valle Dinosauri S.R.L. e il proprietario del sito e il comune di Altamur è stato già stipulato. Quindi noi ora stiamo parlando di un qualcosa che si è già consumato. Lo facciamo proprio per dovere, come diciamo prima, di informazione e perché siano chiare anche le cose che sono state dette per mesi da noi e le cose che si sarebbero dovute fare invece e soprattutto i risparmi che si sarebbero potuti determinare. Ora stiamo parlando di qualcosa che si è già consumato e, scusatemi, chiama in ballo le responsabilità, colloca le responsabilità. Diciamo sostanzialmente voi dite quella era la cifra massima che si sarebbe dovuto utilizzare. Era la cifra massima perché da parte del Ministerio, che era una progetto del Ministeriale. Comunque per acquisire i terreni, dobbiamo dire. Non solo, anche per elaborare il progetto preliminare. E l'accessibilità al sito, perché è scritto. Manifestiamo l'interesse all'acquisizione del sito archeologico denominato Cava del Dinosaurio mediante procedure espropriative in capo al Ministero dei Beni Culturali, titolare del procedimento, che avrà cura di garantire l'accessibilità allo stesso sito da via pubblica. Quindi il Ministeriale avrebbe avuto cura non solo di acquisire aree, ma quello è comune di garantire poi l'accesso complessivo dalla via pubblica. Che si può ottenere solo acquisendo anche i terreni. Anche i terreni. Dopodiché, in bilancio si disse, abbiamo accantonato 535 mila Euro, ma dopo questa procedura, dopo questa... La polemica per ritornarci sopra era proprio questa, cioè voi contestate, voi di ABC, ma anche di tutte le posizioni, contestate la cifra di finale di 700 mila Euro, quando invece voi ne avete votata una di 500 e rotti, di 500 e 300. Ma in realtà non abbiamo votato la stima, perché non c'era una stima. Noi ci siamo mostri all'epoca... Fino a quella cifra. Perché la stima l'avrebbe potuto fare il Ministero. Ma diciamo era questa la contestazione. Nella situazione attuale, in Consiglio Comunale a novembre e poi successivamente ancora con gli atti consumati, in realtà siamo dinanzi a un quadro che vede il Comune procedere all'acquisto di queste aree, che sono pascoli, perché questo dobbiamo anche chiarirlo ai cittadini altomunali, la superficie su cui sono le orme, su cui sono impresse le orme di Nosa, quella superficie è già del demanio. Qui ho decreto del demanio, del Ministero dei Beni Culturali del 2000, che praticamente con la legata pratimetria, che segnala appunto come questa è l'area dove c'è stato il vincolo diretto, cioè l'area su cui sono impresse le orme, qui c'è una zona delimitata in grigio che però non è evidenziata in questa stampa, dove c'è un vincolo indiretto, sostanzialmente. Sì, eccola qui. Quindi l'area nera è quella dove c'è stato apposto il vincolo diretto, perché ci sono le orme di Nosa, poi attorno ci sono le superficie con termini, dove c'è un vincolo indiretto. Ora, il Comune ha acquistato tutta l'area, però in realtà la superficie su cui è già demaniale, primo dato. Secondo dato, in tutte le procedure espropriative, qualunque procedura, e questo non è da meno, il soggetto che espropria ha due doveri preliminari, quali sono? Uno, fare un progetto, cioè io espropio perché voglio fare una strada, perché voglio fare una scuola, non espropio perché prima lo compro e poi domani mi regolo cosa devo fare. In questo caso manca totalmente un progetto di valorizzazione. Secondo dato, sempre preliminarmente, il Comune, cioè i soggetti esproprianti in questo caso, perché poi Forte, con la delibera di novembre, ribalta completamente questa delibera, perciò stiamo parlando di due cose diverse, Arturo. Qui stiamo parlando di una delibera, quella del 2014, che diceva al Ministero ti chiediamo di espropriare e quindi fai la stima, fai il progetto e intanto ti mettiamo a disposizione 530, massimo 535 mila euro. Nel novembre 2015, con l'amministrazione Forte, questa cosa cambia completamente. Il Comune dice, espropio io. Diciamo che non c'è più l'Agenzia Immobiliare. Non c'è più il Ministero di Mezzo. Ma la facciamo direttamente. La facciamo direttamente. Senza agenzia. E abbiamo chiesto, il Comune ha chiesto nel novembre scopo, ha chiesto solo l'autorizzazione al Ministero. Per procedere. E se tu sei soggetto a espropriare, tu Comune, tu amministrazione Forte, il primo passo era quello di fare un progetto in funzione del quale tu decidi di espropriare e secondo dato devi fare la simma. Allora il sindaco Forte si è dimenticato di leggere, perché ha sventolato le carte, le carte del Ministero e della sovrintendenza. Sovrintendenza, 4 gennaio 2016, in relazione a questa cosa qui, fa presente che è stata trasmessa, la sovrintendenza ha avuto qui il trasmettere al Ministero la delibera del Consiglio di novembre scorso. Cioè in cui dice, mi autorizzate come Comune a procedere all'espropio? Aggiunge, ricordando che la valutazione economica dell'immobile è definita sulla base dei parametri che si riterrà di voler utilizzare dalla amministrazione procedente. Cioè vuole dire, chi procede all'espropio è il Comune, ed è il Comune che ha l'onere di fissare la stima, sovrintendenza. Secondo documento, il decreto di pubblica utilità, perché il Ministero ricevuto la richiesta di autorizzazione, dice sono d'accordo, Comune procede all'espropio, però il Ministro deve fare un decreto di pubblica utilità, sulla cui base poi si procede con l'espropio. Velocemente così. In due passi si evidenziano chiaramente due cose. Si esprime parere favorevole all'acquisizione da parte del Comune di Altamure, quindi è il Comune che espropia, dell'importantissimo contesto geopaleontologico, ricordando, anche questi ricordano all'amministrazione comunale, a Forte, ricordando che la valutazione economica dell'immobile è stata definita dall'amministrazione procedente sulla base di parametri che la stessa ha ritenuto di voler utilizzare. Cioè il Ministero e la Sommissione si lavano le mani dalla stima, perché non essendo più competenza loro le sprovano. Dicono, il problema è della competenza, della quantità e dell'indennità da riconoscere. È un problema tuo che devi risolvere tu. È il problema, ed è questa la vera contestazione che noi stiamo facendo, che in questa procedura espropriativa, nel momento in cui stacca prima, perché avvia delle trattative proprio gli ultimi mesi, da marzo 2015 e poi proseguite da Forte, non c'è una stima del bene fatta dal comune. Sono tutti incontri trattativi private svolte con la proprietà ed è imbarazzante leggere, scusate, questo è un altro passo, non voglio essere ridondante, leggere sempre nel decreto di pubblico utilità del Ministero, va veramente impressione leggere che la successiva deliberazione del Consiglio Comunale, 84, del 30 novembre 2015, quella dell'amministrazione Forte, nella quale viene rinnovata la manifestazione di interesse dell'acquisizione nell'area, però con la procedura, quella comunale, non più ministeriale, e viene decisa su richiesta della società proprietaria un'integrazione di 231 mila Euro, che viene pertanto determinata in totale in 696.483. Non si è mai visto che un indennizzo di esproprio viene determinato su richiesta del proprietario espropriato, mai visto, chiunque sia stato interessato a una procedura esproprio sa che quando un'amministrazione del procedere con l'esproprio che fa? Ti notifica, fa una stima sua, autonoma, libera, fondata su parametri oggettivi tecnici, c'è una scienza che è la scienza dell'estimo, scusami, l'insegnamento universitario, quali tecniche, scienza dell'estimo, i geometri lo sanno, gli ingegneri lo sanno, è una scienza ben precisa, in questo caso si guarda al valore di mercato, dice la legge, il giusto prezzo in una libera contrattazione, questi sono pascoli, il pasco nelle nostre parti vale 3.000 Euro d'ettero, qui l'abbiamo pagato sostanzialmente, se si considera tutti i 17, facendo finta che non ci siano già le orme, quindi già pubbliche, considerando i 17, stiamo pagando un ettro di pasco, l'abbiamo pagato ormai purtroppo, 45.000 Euro, allora dinanzi a questo quadro, che vede, manca un progetto, manca una stima fatta dal Comune e dinanzi a una somma enorme, mi pare che sia doveroso dalle forze di opposizione prendere un'iniziativa forte, chiaro? Perché ognuno deve assumere un solo responsabilità? E qui siamo dinanzi a forze che hanno viste insieme, anche questo dato è politicamente significativo, le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale insieme hanno preso un'iniziativa decisa, come quella di fare una segnalazione alla Corte delle Conte, perché devono essere chiare le responsabilità, e mi riferisco ai gruppi di ABC, mi riferisco al gruppo del PD, Partito Democratico, mi riferisco al gruppo Noi, Nuovi, Orizzonte, Idee e mi riferisco al Movimento 5 Stelle, c'è un fatto davvero eccezionale, ha determinato una risposta eccezionale di quattro realtà politiche completamente diverse tra di loro, e questo è un dato significativo. Andiamo al Parco degli Ulivi, ex Suolo Rossi, dove si è sbagliato? Velocemente, così chiudiamo sui titoli di quota. Anche qui mi piace, intanto c'è una mobilitazione cittadina, c'è un comitato cittadino che da tre anni tiene viva questa materia. Io un consiglio comunale, me ne sono occupato da 2002 sostanzialmente, purtroppo ancora una volta il limite vero è dalla classe dirigente politica, perché qua il problema non è una controversia, un conflitto tra un gruppo di cittadini e i proprietari delle aree. Non è questa la questione, assolutamente no. Il problema è che entrambi, sia gli imprenditori, i proprietari, che i cittadini si rivolgono alla politica. La politica o è capace di creare delle opportunità, nuove idee, altre soluzioni, altrimenti non ha significato, non ha senso proprio la politica. E quindi cosa avrebbe dovuto fare la politica? Per anni, questa è una posizione tutta personale, prima con il Movimento Aria Fresca, ora semplice cittadino, lo ribadisco, per anni io ho proposto anche in forma scritta in più occasioni, prima l'amministrazione Stato e poi ripetuta anche l'amministrazione Forza, che c'erano le possibilità per immaginare una cornice di un regolamento comunale, di prevedere che i volumi, perché lì ci sono i volumi, con una precisa destinazione a servizi pubblici, cioè scuole, caserme e così via, che quei volumi fossero delocalizzati, spostati da via 4 Novembre, cioè da una zona che è congestionata, che siamo alla città di uno, cuore alla città congestionata già dal cemento, di togliere quella volumetria da lì e di spostarla con la stessa destinazione, ad esempio in uno dei quartieri di espansione, come il quartiere 30 Capigli, dove c'è un'area di proprietà del comune, già di proprietà del comune, che avrebbe consentito di far atterrare questi volumi. In un'operazione, ripeto, in una cornice... Uno, liberato un pezzo di una città congestionata come via 4 Novembre dal cemento, parliamo di 25 mila metri cubi, parliamo di offrire dei servizi a 30 Capigli, e offrire servizi importanti, come ad esempio quella che dà armi similanta come obiettivo, come la scuola a 30 Capigli, c'è un'operazione che non avrebbe penalizzato i proprietari e ciascuno avrebbe vissuto una città più a dimensione d'uomo. E' la potenza della politica, io più volte mi avrei ascoltato in conseguenza, diamoci del tuo per piacere perché questa è così, in conseguenza avrai ascoltato più volte dirmi io non mi rassegno alla impotenza della politica. Ma anche questa scelta è arrivata alla fine del mandato stacca, una coincidenza anche questa? No, un paio di anni prima, è stata lì un po' in stand by, poi con l'insediamento dell'amministrazione Forza. Arturo, proprio flash, rapidi, consentimi questa... Ci sono grandi opportunità, lo dico alla città perché possa ascoltare, poiché quando ne ho parlato con qualcuno ho trovato freddezza, insomma, se non ostilità, insomma, insofferenza, perché io continuo ad essere un appassionato non solo di politica ma innamorato della città e rinnovo l'impegno proprio per questo innamoramento. Ci sono, cito solo tre perché ce ne sono anche, tre grandi opportunità. C'è un bando della Presidenza del Consiglio per il recupero di aree degradate, passa attraverso la città metropolitana, siccome noi ora siamo un prezzo, però con dei parametri parliamo di aree degradate. Noi ritorniamo a proporre come ABC, lo abbiamo fatto con un precedente bando che il Comune non ha sfruttato a novembre scopo, la scelta del quartiere Carpentino, cioè vale a dire il recupero di tutte le aree a ridosso degli insediamenti delle cosiddette case popolari, la realizzazione della strada di collegamento tra la scuola Tommaso Fiore e la cosiddetta rotonda. È un piano che abbiamo presentato anche qui attraverso i servizi del Tg di Canale 2, quindi abbiamo parlato più volte. Questa è l'occasione per poter ripresentare questo bando. Due, beni culturali. C'è un bando che nel Ministero dei Beni Culturali chiede ai comuni di unirsi per un bacino di utenze di almeno 150.000 abitanti per finanziamenti finalizzati alla progettazione dei beni culturali, perché il dramma è che in Comune non ha un progetto, sicuramente quello di Altamuno. Questi finanziamenti sono destinati alle progettazioni. Che potrebbero essere persi. Terzo bando, c'è un bando ancora aperto della regione, l'affinamento delle acque reflore, cioè vale a dire trattare le acque del depuratore che sarà potenziato e là già sono stati appautati, forse sono già iniziati i lavori per i vecchi depuratori la cui capacità è insufficiente. Però questi finanziamenti sono destinati ad affinare le acque di depurazione per destinarle a usi e riuscire. Risolveremo ad esempio il problema di 10 in maniera radicale e drastica. Grazie per l'opportunità. Purtroppo dobbiamo chiudere, ringraziamo Enzo Colonna per essere stato qui con noi, avremo altre opportunità per parlare di questi ed altri argomenti. Grazie a tutti, a risentirci alla prossima qui su Canale 2 per il nostro appuntamento appunto. Canale 2 c'è dopo il Tg. Grazie a tutti.